Sull'isola Dischia le piogge delle ultime ore hanno nuovamente messo a nudo l'elevata fragilità territoriale del comune terremotato di Casamicciola Terme, dove resta altissimo il rischio idrogeologico su tutto il territorio. Infatti, dopo gli smottamenti dei giorni scorsi, anche stamattina si sono registrate nuove e pericolose frane, come quella venuta giù in via Nizzola, dove, assieme ai detriti, è improvvisamente crollato sul selciato un grosso ceppo di castagno, che ha invaso la stretta carreggiata, la quale attualmente, dopo il terremoto del 21 agosto scorso, rappresenta l'unica via di collegamento con la Selva Pira. E se non si sono registrati danni a cose e persone, è solo perché nel momento del crollo, fortunatamente nessun residente era di passaggio. Siamo proprio in via Nizzola, vedete, questa è una parte del costone franato e che ha invaso tutta la strada. Intanto, in via Nizzola, già a teatro nei giorni scorsi di altri smottamenti, urge un immediato intervento di messa in sicurezza delle pareti che la costeggiano, visto che il rischio di nuove frane permane altissimo, anche a detta dell'ingegnere Vepino Conte, che oggi pomeriggio si è recato sul posto per verificare di persona la situazione. Un altro vistoso smottamento si è registrato anche lungo il costone sottostante di via Montedapor, la strada che affaccia sul popolare e popoloso quartiere di Perrone. Intanto, mentre all'ingresso di Cava Senigallia altri detriti si sono aggiunti a quelli portati giù dalla frana circa dieci giorni fa e che da allora non sono stati ancora rimossi, un'altra frana da mesi ostruisce l'alveo di Cava Pozzillo, come con le nostre telecamere, abbiamo già denunciato da tempo. Cosa si aspetta di intervenire? Cosa si aspetta di sostruire l'alveo di Cava Pozzillo e a rimuovere i detriti dall'ingresso di Cava Senigallia? Aspettiamo prima che una forte pioggia trascini tutto verso Piazza Bagni? Possibile che non abbia insegnato nulla all'alluvione del 2009, in cui perse la vita la cara e piccola Anna De Felice? Cosa si aspetta ad arginare il rischio idrogeologico? Aspettiamo prima il verificarsi di nuove tragedie. Il partito comunista italiano marxista-leninista, guidato da Domenico Savio, chiede con forza a tutte le istituzioni deputate alla messa in sicurezza dei nostri territori di intervenire con la massima urgenza per porre fine all'elevato rischio idrogeologico su tutta l'isola d'Ischia. Grazie a tutti.